pronto buongiorno pronto buonasera si pronto il signor iaia si sono io no perché ci hanno segnalato cosa sgradevole volevo che lei la smentisse che hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere ha sbagliato numero ehi lei chi è scusi chi è lei lei che sto parlando con un fantasma mi scusi a fangolo attaccato